Adesso, sappiatelo, abbiamo a che fare con delle persone serie, con delle persone determinate che mi ripetono continuamente, passo dopo passo ci rafforzeremo in A e conquisteremo tutto quello che c'è da conquistare. Passo dopo passo, grazie, grazie davvero. E adesso, dopo aver reso gli onori, la parola a Gioi Saputo, presidente della squadra di calcio del Polonia. Grazie, grazie a tutti. Prima di tutto, grazie per l'accoglio che mi avete dato durante che sono qui a Bologna. Grazie molto. Come abbiamo detto, e come ho detto un'altra sera, per noi era molto importante. L'obiettivo era di ritornare nella A. Adesso l'obiettivo è di rimanere lì il più lungo possibile. E come ha detto il sindico, piano piano, lavoreremo per assicurare che questa squadra ritornerà alla grande gloria che aveva nell'anno passato. Però lo dobbiamo fare tranquillamente e ho bisogno del vostro appoggio per il periodo che passerà. Allora, tranquillamente lo facciamo. Anche, senti, come ho detto prima, sono molto contento di essere qui a Bologna. Mi avete accolto con mani aperte, cuore aperto. E per me è stato qualcosa di incredibile. E mi ha dato veramente l'opportunità di fare cosa abbiamo fatto. Bravi, grazie. Voglio ringraziare i giocatori, voglio ringraziare la società per tutto che hanno fatto, perché lo so che quest'anno è stato un anno abbastanza difficile, con delle alti e delle bassi. Voglio ringraziare la società per tutti. È vero che abbiamo bisogno di un cuore molto forte dopo che abbiamo passato, però speriamo che possiamo andare adesso più tranquillamente. Grazie. Bene, per rendere ancora più simbolica la giornata. Il simbolo di Palazzo d'Accursio, a Gioi Saputo. Avete sentito? Sa molto bene l'italiano. Adesso dobbiamo andare piano piano, con determinazione, il dizionario bolognese italiano. Italiano bolognese. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.